Se questo video raggiunge 4.500 mi piace, vi porto alla reazione ai migliori gol di Mauro Icardi Ciao amici di Youtube, qui con voi è Cervuza e oggi siamo in un nuovo video Oggi ragazzi come avete detto dal titolo siamo ritornati nella serie delle rea... Sto sentendo male Sì ragazzi siamo ritornati con la serie delle reaction che vi piacciono tanto Quindi subito un bel like, un bel commento, iscrivetevi al canale, mi raccomando attivate la campanella Seguitemi su Instagram, link in descrizione, oggi sono da solo E oggi come avete detto dal titolo e come avete visto dalla miniatura faremo la reazione ai migliori skills e ai migliori gol di Neymar Giocatore che alzo le mani Quindi ragazzi subito un bel like, come avete sentito dalla intro 4.500 mi piace e facciamo la reazione ai gol di Mauro Icardi Non mi sono dimenticato, devo fare anche la reazione ai gol di Messi e ai gol di Francesco Totti Arriveranno e c'è il mio fratello dietro la porta Quindi ragazzi io direi di non perderci in chiacchiere, sono carico, sono pronto, cuffie alle orecchie e andiamo a reagire Eccolo Neymar Ragazzi eccolo qui Neymar Mamma mia Che in bilico, non si sa se va al Barcellona Clamoroso ritorno, si rimane al PSG, Real Madrid Un po' a rottura col PSG Eccolo qui, Neymar Eccolo qui con la maglia del PSG Bacia il pallone Neymar Junior, eccolo la mia skill Oh, oh Oh, ti faccio vedere subito Oh, Piez Oh, fra Da là qua E, e, e Dove vai? Dove volete andare? Ragazzi Neymar Cioè, se ti vai a vedere una partita di Neymar allo stadio ti diverti Ti diverti, va da là qua Fa delle giocate che davvero sono imprendibili da prendere Va da là qua Va da là qua E Suvola Velocità tripling Eh, è uno spettacolo vederlo giocare Mamma mia Eh, eh Fai dei movimenti con i corpi Che davvero ti fa ballare la samba Cioè, è assurdo Guarda là qua Bello il suo assaggio Bello, bello proprio Eh Il tacco è la sua specialità Specialmente quando ho la stoppa di tacco Stupendo Ho un Bappini, Neymar Non si capisci niente Sto PSG Guarda là qua Suvola tacco Fallo qui Decise Vediamo qui E Chiudi le gambe amico Contro la stella rossa Chiudi le gambe amico Guarda lì, guarda lì Guardalo, guardalo Non lo fermi Tre di loro Non gli ha fatto capire niente Mamma mia Vai giù Eh, eh Suvola a destra Sinistra Non si capisci niente Tu, 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 tu Veloce Non ti fa capire niente Numero uno Non è male La buona tecnica La tecnica Raga C'ha un po' la testa così Ma Se non fosse per le simulazioni Altre Altre cose Sarebbe un giocatore Tacco Semplice Così Bello sto cross Per Boppi Che sbaglio Brasile Tacco Così Semplice per lui, no? Eh, senza vedere Contro il Napoli Eh, eh Doppio passo su Amsic Che rimane sul posto Come lo fai Come lo fai a prendere Eh Basta che te la tocca Basta che fa un po' così Un po' con lì Eh Giocatore che prova Non andare in scivolata Ma lui Li lascia tutti a sedere Passaggio buono per Mbappé Guarda che Veramente Mo' non si sa dove va Se PSG Se Se Barcellona Real Però è veramente Un giocatore che Fa delle giocate assurde Che nessuno fa Che nessuno fa, raga Il dribbling è È la sua specialità E del migliore È veramente bravo Ha un piede delicato Poi Eh Adesso come è caduto Quella terra Guarda la che sombrero Bellissimo Bello Pulizione Che semplicità Quanta semplicità ha messo Nel tirare questa posizione Tira giro Bellissimo Ha un piede delicatissimo Veramente Nessuno Ha il piede come lui Bello proprio Mamma mia Vada la mano Bello qui con la maschera Eccolo qui Che palleggia Il Brasile Sua nazionalità Con Kylian Boppe Bel suo capello Neymar Farciò di rigore Lo spiazza Esultanza Bello con Kylian Bello 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 Sto sombrero Non male Semplice La tartara così Eccolo qui Sulla fascia Parliamone Pure qui Parliamone Che agilità Quanta facilità Per lui è tutto semplice Eh Bella Ci ha provato Eccolo qui Vorrei essere Neymar Per il talento Ah da lì La mette a terra Oh Ho fatto una finta Calma Sto andando nella tua porta Calma Eh Bello Gabriel Jesus Bello Adesso passaggio Non male Eccolo qui Di nuovo In Champions Passaggio Che la mette Di nuovo Neymar Guarda Quello ti porta Poi pass passo Eh Oh Eh Eh E' l'improvviso Parte Eh non lo prendi Poi ti fai il tacco La finta Ed è impossibile Prenderlo A meno che Gli spezzi le gamme E lo fai male Ed è successo Quindi È difficile Voglio vada la va Com'è forte Com'è forte Com'è forte Sono qui Sempre col Brasile Punto a uno Punto all'altro Qui contro il Napoli Dopo passo su Allan Qui In campionato Veronica Sempre contro il Napoli Veronica su Mertens Qui dribbla tutti In champions Doppio passo Non era un doppio passo Però vabbè Ho chiamato doppio passo Mamma mia Freddezza su rigore Ecco Lo dirò In champions Eh Che palla ha dato Pure qui Semplice Bello Che effetto Bello Non mi sto gasando Bello Contro il Napoli Sempre Contro il Napoli È mostro Cioè È mostro Che ha fatto Tu in Alkaigon Però Però Va da lì Amma mia Amma mia Guarda lì Come lo prendi Non ce la fai Guarda Mi stanno dietro Ma non ce la fai Guarda Ti porto proprio a spasso È un fenomeno Cioè Che ci vogliamo di Non c'è niente da commentare Guarda lì Non c'è niente da commentare Eh Da poco Da fare Una mazziata Ma non lo riescono a fermare Perché Che ci vuoi fare Vai da là Eh Eh Tiro Gol Fortissimo Vai da là Semplicissimo Salve contro il Napoli Però vabbè Semplicissimo Bello Su stop Tacco Così Cose da niente Eh Oh Mostro Mamma mia Oh 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 Mamma mia Ci deve avere Pure la testa Per far ste cose Non è facile È unico A fare ste cose Mamma mia Che turno Bello eh Mamma mia Mi ha levato il guanto Mi ha levato il guanto Applausi Applausi perché Perché Che puoi spiegare Ci sta niente a spiegare Troppo forte Vabbè ragazzi Questo video dovevo finire qua Mi raccomando lasciate un bel like Un bel commento Iscrivetevi al canale Raga Neymar Ormai lo conoscete È troppo forte Non ho voluto neanche prendere Le clip dove stava al Barcellona Oppure l'ha fatto paura Oppure quando stava Nel Santos Se non sbaglio Quindi raga Le giocate le ha fatti I gol le ha fatti E ho preso solo Una parte Di questo Questo non è niente Quindi raga Lasciate un bel like Un bel commento Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram Link in descrizione Da me Da Neymar Che vabbè Meglio Non parlo più È tutto Noi ci vediamo Nel prossimo video Bella Le marruini a Napoli Grazie